Ed è stato presentato ad Ancona nella sede del Museo Archeologico Nazionale delle Marche il progetto Opera, finanziato dall'Unione Europea. Permetterà l'apertura alle comunità dei beni culturali danneggiati dal sisma in fase di restauro. Ecco come avverrà, lo sentiamo con Simonetta Eppoliti. Valorizzare il processo di restauro dei beni culturali in atto nelle aree colpite dal sisma del 2016, facendone un evento culturale aperto a tutti, è l'obiettivo del progetto Opera, finanziato dall'Unione Europea attraverso il segretariato regionale Mibact per le Marche. Un ricco programma pluriennale che vede coinvolti partner italiani ed europei e che favorisce lo scambio culturale fra le professionalità del restauro ed un pubblico più ampio fatto di cittadini, turisti, amministratori locali, studenti, associazioni culturali. L'opera di restauro è un evento culturale, in questo modo però l'opera di restauro viene spiegata, l'opera di restauro viene portata quindi a una conoscenza diciamo estrema che non vuol dire una esemplificazione ma semplicemente vuol dire un portare a conoscenza del fatto che le operazioni devono avvicinare quanto più possibile l'operazione in sé ma far comprendere che se alcuni beni rispetto ad altri richiedono delle tempistiche maggiori proprio per l'intervento di recupero e di restauro in sé è semplicemente perché in alcuni casi le indagini preliminari, quelle storiche, quelle necessarie proprio ad operare nel maggior rispetto del bene stesso richiedono dei tempi maggiori. Il progetto si concluderà nell'ottobre del 2021.